Cambio alla guida della prefettura di Messina. Cosima Distani prenderà il posto del prefetto Maria Carmela Librizi alla guida della città del Peloro dal 2018. Ieri la delibera del Consiglio dei Ministri che su proposta del ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha determinato un cambio di vertice negli uffici territoriali del governo di diverse province italiane. Maria Carmela Librizi lascia dunque la città dello stretto dopo tre anni e prenderà le redini della prefettura di Catania. Tre anni impegnativi in cui con modalità sempre corrette ha saputo gestire con fermezza i controlli legati alla pandemia con riunioni mensili e una serie di adempimenti azzeccati. Nel corso della sua gestione anche due comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, quello di Mistretta e quello di Tortorici. Adesso in città arriva dalla prefettura di Caltanissetta Cosima Distani che prima di approdare nel Nisseno nel 2018 era stata alla guida di Crotone per 16 mesi. Pugliese classe 1960 la di Stani è entrata in carriera nell'aprile del 1989 e ha lavorato presso le prefetture di Matera, Taranto e Verona oltre che quella di Reggio Calabria. Adesso la sfida di Messina. A Caltanissetta invece andrà un'altra donna, Chiara Armenia. Sinceri auguri di buon lavoro di Cenello Musumeci ai tre nuovi prefetti di Catania, Messina e Caltanissetta. Tre donne che hanno già maturato importanti esperienze sia nella nostra regione che fuori. Il governo regionale sarà al loro fianco ancora di più in questo periodo nel quale emergenza sanitaria, economica e sociale richiedono una forte collaborazione tra le istituzioni.